luminoso ragazzi quando mi è arrivato a questo smartphone la prima volta è stata la prima cosa che ho pensato anzi direi accecante siamo di fronte praticamente credo al primo smartphone al mondo da avere ben 6.000 nits di picco come luminosità sotto le luci di età del sole ma ci sono tante altre cose da andare a snocciolare insieme ma ragazzi prima di cominciare mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto ma soprattutto ricordatevi di mettere un bel like molti di voi che guardano i miei video non lo fanno e questo serve a youtube per far conoscere il mio canale anche a tanti altri ma detto questo cominciamo direi di cominciare da subito da ciò che non mi è piaciuto ovvero la confezione di vendita come vedete in questo caso è arrivata ultra slim ma questo non succederà solo con realme ma con tutti i brand che presenteranno smartphone nel nostro mercato nel 2024 ma qui c'è un ma ovvero lo smartphone una ricarica rapidissima a 120 watt ma state tranquilli perché in fase di promo realme ha pensato bene di omaggiarvi del caricatore a 120 watt ultra rapido quindi molto bene ma oltre a questo c'è una super promo per quanto riguarda il prezzo e anche un paio di cuffiette i link che sono qui sotto in descrizione ma vi ricordo che in confezione abbiamo anche già la cover gommata grigia e anche una pellicola pre applicata sullo smartphone quindi direi deluso per la confezione a questo punto no ma passiamo finalmente al dispositivo parliamo di uno smartphone da meno di 200 grammi 199 grammi per l'esattezza quindi non è una mattonella con uno spessore non super slim da 8,6 mm con un ottimo grip in mano e un ottimo bilanciamento del peso cosa significa il bilanciamento del peso che quando utilizzate lo smartphone anche in questo modo solo con due dita non avete la sensazione che vi cade in avanti non dovete fare leva dalla parte opposta perché lui vi si sbilancia mentre lo utilizzate e senza cover ripeto grazie ai materiali risulta davvero poco scivoloso rispetto a tanti altri provati quindi molto bene grazie a questo video ragazzi ho avuto la possibilità di testare sia la versione grigia fluid silver che anche quella verde che poi è quella che ho scelto di tenere qui sul banco e di portarvi all'interno del video è un colore che mi è piaciuto molto questo verde vi dico le finiture raccolgono un po di impronte soprattutto nella zona delle fotocamere in mano è davvero molto griposo come già detto questo grazie anche alla scelta di materiali parliamo di policarbonato e ultimamente sto apprezzando molto questa scelta da parte delle aziende perché alla vista sembra vetro al tatto si sente che così non è il frame è di plastica e anche la back cover e questo permette allo smartphone di essere più leggero e anche più facile da riparare alla fine quindi a mio avviso la scelta di questi materiali va benissimo anche perché ripeto in mano poi diventa una goduria si sente proprio la sensazione che è più sicuro lo smartphone io adoro questa cosa strutturalmente comunque è uno smartphone che non ha sclicchio lì o robe simili tutto è davvero ben posizionato sia per quanto riguarda i tasti laterali del volume e dell'accensione spegnimento ma anche il sensore per le impronte è davvero ben posizionato cade proprio il dito ed è preciso e veloce nello sblocco con una possibilità di andare ad attivare fino a 5 app al volo tenendolo pigiato questa è un'impostazione che si può andare poi a settare a cambiare all'interno del menu super completo invece cosa manca l'appello beh il jack per le cuffie e questo succede con tantissimi alti smartphone mentre abbiamo il bluetooth 5.4 e non manca un audio stereo di buon livello anzi direi di ottimo livello se lo vado a confrontare con alti smartphone sulla medesima fascia di prezzo con la concorrenza quindi anche sotto questo punto di vista mi ha convinto parecchio ma passiamo ragazzi finalmente alla ciccia agli elementi di spicco che rendono questo realme gt6 un vero e proprio mostro in questo 2024 e comincio quindi ragazzi proprio da lui dal display dal pannello parliamo della migliore unità mai provata per caratteristiche su uno smartphone e ripeto su uno smartphone su questa fascia di prezzo mai vista una roba del genere la diagonale da 6,78 pollici o nel tpo amoled a 120 hertz che varia da 1 a 120 hertz testati e provati personalmente abbiamo 2500 hertz massimo di frequenza come campionamento perfetto per i gaming il pvm di 2160 hertz e poi abbiamo mille impostazioni per proteggere i nostri occhi nell'uso quotidiano quindi ad esempio in base alla luce ambientale lui andrà a cambiare le tonalità e poi ragazzi arriviamo finalmente alla bomba la caratteristica maggiore quella più di spicco di questo dispositivo ovvero i 6000 nits di picco di luminosità massima insomma ragazzi a conti fatti lui è il miglior pannello per caratteristiche in circolazione montate su uno smartphone da meno di 1000 euro quindi fate attenzione a questo dettaglio senza contare che nemmeno smartphone come apple e samsung vantano tali caratteristiche per quanto riguarda il pannello soprattutto per quanto riguarda la luminosità sotto luce diretta del sole inoltre il vetro di copertura è un corno invictus 2 quindi una bomba davvero e quindi ragazzi parliamo di un'altra bomba ovvero il processore sotto al cofano in quanto non solo è un petardino come tanti altri ma grazie ad alcune chicchie e lo si vedono soprattutto dai benchmark che sono impressionanti questo gt fa davvero meglio di tutti gli altri smartphone soprattutto se andiamo a confrontare con altri smartphone usciti da poco con il medesimo processore sotto al cofano quindi abbiamo l'ultimissimo snap 8s gen 3 di casa qualcom ormai definito il nuovo top del 2024 ed è un processore capace di eseguire qualsiasi tipo di gioco ai massimi livelli come pubg a 120 hertz o comunque giochi molto molto pesanti sempre davvero molto fluidi e godibili mantenendo sia le temperature sotto carico abbastanza basse e sicuramente sotto controllo per fare tutto ciò realme ha creato una funzione la funzione gt che permette di gestire la frequenza della cpu e della gpu per non farlo consumare inutilmente o troppo quando non serve e utilizzarlo a manetta quando ne abbiamo bisogno inoltre a far compagnia al processore troviamo comunque un sistema di raffreddamento molto importante a nove strati di materiali di raffreddamento quindi tanta roba poi abbiamo 16 giga di ram e 512 giga di memoria interna ufs 4.0 e quindi tanta memoria e tanta ram ma soprattutto memoria molto veloce cosa che non troviamo su tutti gli smartphone che offrono il medesimo taglio di memoria sulla stessa fascia di prezzo quindi anche qui molto bene quindi ragazzi questo realme gt 6 è un petardo diciamo quasi è un petardino che funziona meglio di altri dispositivi che ho provato con il medesimo processore nelle ultime settimane diciamo che qui si vede che è stato messo lo zampino da parte di realme per renderlo più rapido e più veloce e privo di lag è un dispositivo che nell'uso quotidiano funziona e gira praticamente come un vero e proprio top di gamma difficile trovare differenze e finalmente ragazzi parliamo anche di loro delle fotocamere in quanto questo smartphone è pensato certo per le prestazioni in modo particolare ma questa volta hanno fatto un lavoro molto valido anzi direi validissimo lato caratteristiche dei sensori parliamo quindi del primo sensore ovvero un 50 megapixel sony stabilizzato f1 e 69 che permette scatti ottimi ed una velocità di scatto validissima grazie poi anche al software giusto per darvi qualche informazione ragazzi il sensore principale utilizzato su questo dispositivo è montato su smartphone che di destino costano almeno 1000 euro alla loro uscita quindi capite bene che sicuramente per il prezzo di vendita questo sensore è tanta roba a far compagnia poi al sensore principale abbiamo un secondo sensore anch'esso di buona qualità teleobiettivo 2x sempre da 50 megapixel f2.0 e poi abbiamo il terzo sensore meno convincente che una grande angolare da 8 megapixel mentre la cam frontale per i selfie è da ben 32 megapixel la qualità fotografica la state vedendo con i vostri occhi ed è molto buona ho utilizzato lo smartphone per scattare in diverse condizioni di luce e mi sono divertito un sacco a farlo utilizzando sia la modalità street che la modalità ritratto che la modalità notte e quindi come vedete le fotografie di scatti non sono affatto male non parliamo di un top del top a livello fotografico ma comunque lato fotografia di certo non delude ovviamente la grande angolare è quel che è ragazzi soffre un pochettino di più rispetto agli altri sensori ma i due principali da 50 megapixel fanno sicuramente un buon lavoro come avete visto io vi ho fatto comparire diverse fotografie qui all'interno del video youtube ma come al solito quello che vi consiglio di fare è di scannerizzare questo QR code per potervi unire all'interno del mio canale telegram delle offerte dove ci sarà una sezione dedicata alle fotografie scattate da questo smartphone inoltre a fine chiacchierata troverete i video di test registrati da questo dispositivo per poter sentire sia la qualità dell'audio e vederne effettivamente la qualità video e la stabilizzazione date un'occhiata a tutto vi lascio il link qui sotto anche in descrizione al canale telegram e quindi se avete voglia li potete tranquillamente approfondire se nel reparto fotografico è uno smartphone che mi ha convinto decisamente le qualità fotografiche l'avete vista con i vostri occhi c'è un altro sicuramente reparto che mi è piaciuto molto di questo realme come succede un po' ultimamente con tantissimi smartphone del brand e sto parlando del software a bordo abbiamo la realme ui molto carina molto ben fatta priva di bug con android 14 e in questo caso le patch di sicurezza di aprile 2024 sicuramente uno smartphone non stra aggiornato ma tranquilli perché comunque avrà un buon seguito anche per quanto riguarda gli aggiornamenti detto questo il software sembra quasi stock in realtà non lo è e ci sono un sacco di aggiunte di chicche date da realme che permettano quell'utilizzo quotidiano di questo smartphone secondo me davvero di ottimo livello lo se l'ho già detto ma vi spiego cosa intendo vi faccio un esempio abbiamo il display sempre attento ottimo il display sempre acceso benissimo il doppio tocco sia per il blocco che lo sblocco dello smartphone che per me non deve mancare su dispositivo abbiamo l'abbassamento della tendina delle notifiche da qualsiasi punto del display e anche questa è una cosa davvero ottima che a me fa davvero piacere e un'ottima personalizzazione di come impostare le varie icone i temi e non mancano a mio avviso essenziale davvero essenziale la possibilità di andare a clonare tutte le app ad esempio telegram whatsapp e quant'altro insomma c'è davvero tutto non ha bug inoltre il sistema di vibrazione e come è stato insomma sistemato tale cosa grazie proprio al software e la ciliegina sulla torta e qui torno a ripetermi ragazzi nell'utilizzo quotidiano grazie anche proprio al software e come utilizzare un vero e proprio top di gamma anzi per me lui lo è alla fine nell'uso quotidiano è quasi perfetto ma uno smartphone ragazzi non deve essere solo potente e bello con delle buone fotocamere ma deve anche telefonare giusto beh in questo caso ragazzi devo dirvi che mi ha sorpreso nuovamente realme ha fatto un ottimo lavoro grazie al modem interno 5g come vedete da queste clip fianco a fianco gli speed test con lo stesso operatore e lo stesso server fanno vedere come riesca a fare molto meglio rispetto a uno smartphone che costa decisamente di più e non c'è bisogno che faccia nomi giusto lo vedete anche voi quindi a livello di ricezione mi ha convinto molto soprattutto dove c'è poco segnale e anche il riaggancio delle reti è davvero ottimo inoltre incapsula lui è uno smartphone che si sente molto bene gli do un voto praticamente 9 ed è altissimo in quanto ha un buon volume ha una capsula bella calda e si sente bene anche in viva voce quindi ho provato anche questa cosa nessun problema e poi e poi arriviamo a un altro test che io faccio sempre quando parlo di quelli che sono i vari sensori ovvero quello di luminosità che è perfetto funziona da dio tra l'altro c'è la possibilità di tarare anche la luminosità minima da utilizzare in ambienti bui cosa che è molto apprezzabile soprattutto quando andiamo a dormire fantastica inoltre abbiamo il sensore di prossimità fisico che funziona perfettamente che poi accompagnato da un accelerometro che funziona altrettanto bene non avrete nessun problema a portare il vostro smartphone all'orecchio per ascoltare i vocali funzionano perfettamente e non avrete nemmeno lo schermo spesso girato come capita con altri quindi ragazzi tutto questo pippone per dirvi che funziona come deve una cosa che stavo per dimenticare e che realme in questo smartphone specifico ha utilizzato delle antenne molto particolari vi faccio comparire il nome qui da qualche parte che permette di utilizzare lo smartphone anche in modalità gaming quindi coprendolo praticamente da tutti i punti senza che lui possa perdere il segnale per quanto riguarda proprio la ricezione telefonica grazie a questo sistema di antenne ed è un dettaglio molto interessante perché così lo smartphone davvero può essere utilizzato in qualsiasi condizione senza perdere il segnale inoltre hanno fatto lo stesso lavoro anche per quanto riguarda le nfc per permetterci un sistema di pagamento utilizzo delle nfc senza dover andare un po a caso cercando quale sia la posizione più corretta per fare i pagamenti e quant'altro quindi anche questa è una funzione o meglio una chicca aggiuntiva sullo smartphone che non troviamo ovunque insomma mi è capitato più volte no di dover pagare e non sapere quale fosse la direzione corretta del pagamento o come appoggiare lo smartphone qui non avrete nessun problema ovviamente ragazzi è uno smartphone 5g dual sim ma non permette l'installazione di una e sim su interno un po un peccato ovviamente poi ho provato anche android auto direttamente con un mio dispositivo e anche questo funziona perfettamente ho provato il gps che è una scheggia nel fix il wifi è di tipo 6 e viaggia anch'esso a bomba e poi viaggia anche a bomba la velocità di ricarica da ben 120 watt ragazzi incredibile che permette una ricarica del 50 per cento dello smartphone in 10 minuti robe da mati importantissima la ricarica ma tranquilli perché all'interno dello smartphone ci sono tutte le impostazioni necessarie per andare a salvaguardare la batteria e grazie all'intelligenza dello smartphone artificiale permetterà insomma di poter ricaricare il dispositivo con una determinata velocità solo quando occorre quindi molto bene anche questo cosa che ho apprezzato davvero tantissimo la batteria all'interno dello smartphone è da ben 5500 mAh che ne permette un utilizzo parecchio intenso durante le mie giornate ragazzi mi ha veramente sorpreso oltre 7 ore di display e a fine notte abbiamo ancora il 20 per cento di autonomia residua quindi molto molto bene ecco la ciliegina sulla torta sarebbe stato ovviamente la ricarica wireless ma visto il sistema di ricarica ultra veloce ed un'autonomia così buona diciamo che non è un vero e proprio problema una vera e propria mancanza inoltre è uno smartphone certificato ip65 quindi molto bene anche in questo è una cosa che stavo per dimenticare lui ha un sensore IR per utilizzarlo proprio come telecomando ma quindi caro Gesualdo alla fine lo consiglio oppure no questo realme allora ragazzi se seguite i miei video sapete che di solito a fronte di questa mia domanda vi dico che devo spiegarvi diverse cose questa volta vi dico direttamente di sì ragazzi ve lo consiglio senza dover spiegarvi nulla perché perché il prezzo di lancio è di 699 euro oggi da subito con il link in descrizione compreso il caricatore a 120 watt un paio di cuffie custodia e pellicola pre applicata sullo smartphone ottimo prezzo vero beh posso dirvi che potete risparmiare ancora scegliendo la versione da 8 giga di ram e 256 giga di rimoni interna a 549 euro sempre con lo stesso bandolo ovvero con le cuffiette e il caricatore a 120 watt detto questo cari ragazzi fatemi sapere però voi come la pensate nei confronti di questo realme gt6 a meno smartphone che mi è molto piaciuto prima di salutarci come vi chiedo sempre mi raccomando commentate con un bel hashtag viva realme per farmi sapere chi di voi ha guardato il video fino alla fine e ragazzi se vi siete dimenticati all'inizio video fatelo adesso mettete un bel like a questo video perché è molto importante per l'algoritmo di youtube per far conoscere le mie chiacchierate anche ad altri utenti che ancora non sono iscritti e noi ci vediamo prestissimo sempre qui sul mio canale ciao ragazzi e fatti bravi mi raccomando e a presto cari signori buongiorno allora questo video registrato in 4k 60 frame per secondo dal nuovo realme gt6 beh è una risoluzione a mio avviso perfetta con questa giornata soprattutto per capire come stabilizza lo smartphone beh io posso dirvi che a parte a vedersi il display ovviamente da 10 mi sembra anche molto stabilizzato faccio una cosa entro anche qui dentro dove c'è quel cartellino lì come vedete vi faccio anche uno zoom 2x qui c'è effettivamente molta meno luce guardate un po facciamo comunque due passi oggi finalmente ragazzi c'è una bellissima giornata c'è un sole stupendo e domenica ovviamente come al solito io faccio i miei test devo dirvi che sia la riproduzione di colori ma anche la stabilizzazione di questo dispositivo è di ottimo ottimo livello ma sicuramente lo potete apprezzare da soli guardando questo video questa invece ragazzi è la cam frontale in 4k 30 frame per secondo sempre ovviamente dal realme gt6 beh che dire mi sembra una cam piuttosto interessante 4k c'è mi sembra anche abbastanza stabilizzata l'audio non l'ho ancora ascoltato ma potete tranquillamente farlo voi mettetevi magari un paio di cuffie oggi c'è una giornata stupenda ragazzi e niente mi sembra una fotocamera che fa il suo dai ti siamo molto bene 4k importante ciao siamo arrivati alla piccola pillola di video che faccio sempre per chiacchierare a braccio con voi di questo smartphone allora ragazzi sapete bene che io ho lavorato per più di dieci anni in un negozio di telefonia fino a qualche anno fa quindi quello che ho imparato a fare è capire qual era lo smartphone che andava bene per il cliente che mi entrava in negozio dopo una serie di domande che andavo a fare a loro capivo bene se un dispositivo poteva essere l'ideale per un tipo di utente rispetto ad un altro in base alla fascia di prezzo agli smartphone che avevano in mano e facendo diverse domande quindi quello che il mio consiglio che posso darvi è prima di acquistare un dispositivo fatevi una domanda cosa cerchiamo da quel dispositivo cosa di cosa ho bisogno da un nuovo smartphone rispetto a quello che ho adesso la velocità di ricarica beh allora lui può essere sicuramente lo smartphone per voi un display che si vede benissimo al sole allora lui è lo smartphone che magari può far per voi non volete uno smartphone completamente di vetro perché avete paura che quando cade va in mille pezzi allora questo può essere nuovamente lo smartphone per voi magari cercate anche le cuffie bluetooth o altro ed ecco che torna ad essere nuovamente il dispositivo per voi ma non è detto che sia per forza questo insomma prima di acquistare un nuovo smartphone fatevi sempre qualche domanda cosa cercate da un dispositivo cosa vi serve e soprattutto insomma datevi delle risposte guardando i miei video detto questo come avete capito lui questo Realme GT6 ma un po' come tutta la famiglia Realme mi ha convinto questo perché? perché è uno smartphone che funziona bene non ha lacune non ha bug fa tutto quello che deve e ha delle chicche e delle caratteristiche che fanno insomma portare ad un livello superiore questa macchina rispetto magari ad altri in primis proprio il pannello pazzesco il software che mi è piaciuto molto e anche il peso è uno smartphone che sta bene in mano ciao ragazzi e a presto